Il momento in cui verrà assegnato questo oro, ci sentiamo di poter sbilanciarci dicendo che è assolutamente di rio che ora. E prende tutti gli applausi dei tiboni, che punteggio, che punteggio, l'ha staccato. 28,72, 27,66, ma lo partiamo. C'è da dire non è tanto che da intero è meno, ora ti faccio rispetto questo è proprio tutto quello che c'è nel karate, è la storia del karate, la rappresenta in pieno rio più da, perché il karate comunque nasce come forma di difesa, nasce poi principalmente dal kata, guardate qui questa mamma, wow da bribito, da bribito, rio più da è il numero uno, la leggenda del kata individuale, bambine, questi fetti di cinocchio, in mezzo al budokan, il tempio delle arti marziali, dopo tanti anni di sacrifici, tanti anni di successi, questa carriera è incredibile, rio più da è così con gli occhi, c'è definitivamente anche lui si lascia andare alle emozioni, rio più da è umano ragazzi, non è una maggiore, non è una maggiore.